Buonasera a tutti, ben ritrovati per il nostro punto dopo la chiusura del mercato diurno. Oggi è stata una seduta leggermente più movimentata rispetto a quella di ieri, soprattutto per quanto riguarda i volumi, che vedremo tra poco. E c'è stato qualche spunto operativo in più perché si è mosso bene anche qualche titolo al di fuori del Fuzimib. E' per questo che ho deciso di continuare con una versione short durante la settimana, facendo magari 4 migliori e 4 peggiori del Fuzimib e ogni volta inserendo però dei titoli dell'MTA che si sono mossi particolarmente bene. Non perdiamo però ulteriore tempo e iniziamo subito con i volumi. Come potete vedere abbiamo fatto 1 miliardo 835 milioni da 1 miliardo 274 milioni di ieri, per cui quantomeno a livello di volumi c'è stato un aumento decisamente significativo anche se è un volume di scambi ancora abbastanza deludente. C'è da dire che domani è Sant'Ambrogio, il lotto è festa anche se la borsa sarà aperta, per cui questa non è la settimana migliore per quanto riguarda gli scambi. Passando un attimo a sfera vedete che stiamo facendo i minimi di giornata in after hour, abbiamo fatto un minimo a 24.225, questa mattina vi avevo indicato come minimo sul FIB un target a 24.275, che è stato più o meno quello che abbiamo fatto nel mercato diurno. Per domani passeremo probabilmente a 24.060. Per quanto riguarda i singoli titoli, anche perché l'America vedete che è piuttosto negativa, Dow meno 1.15, Standard & Poor's 500 meno 1.56, Nasdaq meno 1.89 e Russell meno 1.67, per cui domattina nel punto di preapertura cercheremo anche di vedere la situazione sugli indici americani e sui principali indici europei. Veniamo adesso ai titoli che si sono comportati meglio, anche se è un meglio relativo perché c'è stata debolezza sul mercato, Leonardo è riuscito a chiudere in positivo a più 0.76, continua a far fatica a rompere la resistenza qui poco sotto 7.90, vedete il 28 di novembre 7.87,2, il 29 di novembre 7.86, il 30 di novembre 7.87,8 e oggi 7.87. Io in questi casi cercherò di sfruttare ovviamente il trading range, l'ideale sarebbe prendere il titolo tra la media mobile 50, 7.55,5 e il minimo del hanging man del primo di dicembre che è 7.506. E' stato un movimento molto sorprendente per me quello di Unicredit, vi ho tracciato questa trendline rialzista partita dai minimi del 29 di agosto che è stata perfettamente tenuta, però per come si stava impostando il titolo io credevo almeno un target in area 12, in realtà il primo obiettivo poteva essere la media mobile a 50, 12.085 e poi il minimo del 27 di ottobre 11.92,2. Io domani su debolezza proverò comunque il titolo, poi abbiamo Erg, Erg comunque continua a stare in trading range, abbiamo individuato questa base compresa tra 28,76 e 29,14 come range, comunque area 29 potremmo dire, però non riesce a superare 30,88 consideriamo che poi sopra alla media mobile 231,06 e quella 131,27 per cui io da area 29 in giù a livello intraday sarò compratore. Per quanto riguarda Prismian, continua a lateralizzare sui massimi, il target è sempre il massimo dell'11 di novembre 34,37, la nuova base devo dire che la sta facendo poco sopra area 33, rimane ancora da chiudere il gap a 33,05, l'ideale sarebbe prendere il titolo a chiusura gap. Veniamo alle note dolenti, direi subito di Asorin che sta diventando veramente un titolo difficilissimo da fare, oggi ha chiuso il mercato di urno praticamente sulla media mobile a 200, 128,15, la chiusura media mobile a 200, 128,22, poco sotto a 127,1 c'è la media mobile a 50, io a questo punto aspetto il titolo a 123, se ci arriva bene, se non ci arriva pazienza, ammirerò ovviamente l'andamento di Asori. Sempre molto brutta Nexi, ecco io vi voglio dire una cosa importante, io oggi Nexi non l'ho provata perché per me è fondamentale che data la mia esperienza di trading intraday in controtendenza, la discesa del titolo deve essere molto rapida, cioè se Nexi mi va da 8,20 a 8 in pochi minuti, certe volte con ordini di vendita enormi, potrebbe farlo anche in pochi secondi, io sono compratore di area 8, se mi scende tic by tic molto lentamente, mettiamolo un attimo per far capire il grafico di Nexi, ritorniamo un attimo a sfera, vedete la discesa di Nexi come è stata? È stata comunque piuttosto lenta, c'è stata ecco l'unico momento, questa accelerazione qui, quando è andata a 7,93 che poi ha recuperato fino a 8, però non sono quelle discese che amo comprare io, io amo comprare veramente le accelerazioni ribassiste, gli spike, per cui è vero che non ha perso l'ultimo baluardo della congestione che è 7,82, però domani potrebbe anche andare in area 7,50, ovviamente se ci arriva in accelerazione io sarò sicuramente compratore, ieri perdonatemi ero un po' stanco perché sono tornato da una cena di lavoro a Milano alle 2 del mattino, alle 6 ero già in piedi, mi sono dimenticato di farvi l'analisi di Amplifon perché la seduta di ieri era seppur candela inside ma piuttosto negativa e oggi ha confermato quella negatività per cui domani si può valutare se il titolo va almeno a testare la media mobile a 50 che è 26,50, si può valutare un acquisto, il solito discorso se mi ci va meno 1, meno 1,5, meno 2, meno 2,30 io non compro, se mi va da meno 1 a meno 3 o a meno 4 meglio ancora alle ora lì sarò compratore. Il titolo che invece ha deluso molto per come era impostato di periodo è Iveco, perché Iveco era comunque e ancora adesso in laterale sui massimi e sinceramente non sembrava presagire una discesa così significativa come quella odierna dove ha fatto quasi meno 3%. Io su Iveco sarò compratore solo da 6,046, 6,07 diciamo su una bella correzione, Allora lì so, o meglio ipotizzo perché sapere in borsa significherebbe o la sfera di cristallo e non è ovviamente nemmeno il mio caso, però lì ho probabilità che se riesco a comprare su una forte accelerazione rebassista almeno quest'area di supporto importante il titolo me la possa tenere. Adesso ripassiamo un attimo a sfera, ve l'ho voluto mettere in questa schermata, questa è solo una delle due schermate che utilizzo io, qua ci sono i titoli peggiori e qua ci sono i titoli migliori, vedete che ci sono ben più di 500 strumenti tra azioni e warrant e in questo momento voglio vedere con voi i titoli che meritano un'analisi nell'MTA tra i migliori, sicuramente direi Portobello perché ve ne ho già parlato ieri, io sono sincero non l'ho fatta, anche se ha superato il target che vi avevo dato che era la media mobile 226,32, in realtà ha superato anche un primo livello di resistenza che è andato leggermente sotto il livello di resistenza a quello di 28,5 a chiuso a 28,3. Diciamo che un ulteriore spunto rialzista può averlo anche domani, visti i volumi così importanti e l'obiettivo diventa la chiusura del gap lasciato aperto il 10 giugno a 29,40. Io ho un'operatività che non faccio perché quando un titolo mi scappa io lo ammiro, lo avrei dovuto comprare qui, parlo di venerdì, me ne sono accorto nello studio che ho fatto domenica mattina, quindi ve l'ho già spiegato, io un titolo che mi scappa è ovvio che mi possa rodere perché potevo comprare il titolo sotto 20, no forse a 20,5 e ha fatto 8 euro in due sedute, però pazienza, ecco tornerò a guardarlo se chiude il micro gap a 24,40, quindi per un po' di tempo non me lo faranno sicuramente vedere. Poi si è mossa abbastanza bene Ezi che forse non avevamo ancora guardato, vedete Ezi ha fatto una bella engulfing bullish per cui un altro titolo da monitorare, mi raccomando va fatto con controvalore basso perché è vero che per me fino a 2,70 ci può arrivare, però diciamo che gli scambi sono abbastanza pochi. Oggi ha fatto 13.500 pezzi, poi fatemi vedere un attimo, voglio vedere i volumi, il quadro ha scambiato troppo poco quindi è inutile analizzarlo, diciamo che un titolo che mi chiedete spesso che merita un'analisi è sicuramente T-Pro, Tecnoprobe, qui sta lateralizzando il range è più o meno tra 7 e 7,48, oltretutto ha superato già ieri confermata oggi la media mobile a 200, 7,128 e quella a 50, 7,153 per cui qui si sfrutta il trading range, nella parte bassa del range diciamo da 7,05 in giù si compra e si vende poco prima di area 7,50. Vediamo invece tra i peggiori cosa possiamo guardare, trevi sotto aumento di capitale lascerei sicuramente stare, per esempio potrebbe essere interessante Karel, Karel secondo me è un altro titolo che deve venire giù per cui il target è almeno il livello delle medie mobili, quindi quella a 50, 21,90, quella a 100, 21,63, quella a 200, 21,32, c'è poi 21,40 al minimo del 10 di novembre, poi per dare una continuità a quanto vi avevo detto ieri, avevo visto prima la DigiTouch che anche oggi ha chiuso sui minimi di giornata, io non sono ancora entrato perché aspetto almeno questo livello poco sotto 2,20, il primo target domani è probabilissimo, media mobile a 100, 225,2, se arriva 2,18, 2,19 io magari un primo tentativo lo farò, anche se l'ideale è un ritorno in area 2,10 dove transita la media mobile a 200. Poi ultimo titolo di giornata che so che viene seguito da molti iscritti al canale è Tamburi, Tamburi ha dato un brutto segnale oggi perché è una Marobozu direi piuttosto nitida, black ovviamente 7,56, 7,37, primo target per domani la media mobile a 50, 7,155 e poi eventualmente 6,97 che è il minimo del 2 di novembre, io su debolezza sarò sicuramente compratore su Tamburi perché è un titolo che mi piace molto, sapete quanto ammiri Gianni Tamburi, quindi su debolezza sicuramente sarò compratore. Per questa sera abbiamo concluso, noi ci sentiamo domani prima dell'apertura del mercato diurno e poi ovviamente faremo come al solito il punto serale, ma ho in serbo altre novità che non vi voglio ancora spoilerare perché giustamente alcuni utenti mi chiedono anche delle analisi di medio e lungo periodo, inizierò a farle per cui abbiate solo pazienza che almeno una settimana di queste analisi su titoli promettenti verrà effettuata perché so che può interessare anche ai cassettisti che sono iscritti al canale. Auguro una buona serata a tutti.